E' piantala, dove ti hai ricacciato? Se la cava con Sersi Dai, viene dal Kansas, direi come E' uno del Kansas Sì, è uno del Kansas Bravo! Bella presa Siete male, eh? Pronti! Set! Hop! Dai, dai! 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 Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai! Ehi! Dai, dai, dai! Dai, dai! Dai, dai! Dai, dai, dai! Ah! Vai, 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 è that's Strength Lulison! A play, a play! Arroi! Hanno! Ehi! Arroi! Akai! Si, hai futura mala! A contra! orteriori orteriori buona Baccaria seguite guarda Baccaria Baccaria i tuoi mi hai Ehi, 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 ehi! Ehi, ehi, ehi! Vai! Ehi, che cazzo ti ha preso? Tu la regola devi rispettarla! Buono, buono, frena, Rocci. Tu lo sai chi è questa? No, lo so, è Johnny Utah della Ohio State Pack Ice, il mediano della nazionale, non ricordi Johnny Utah, io non ti volevo prendere lì, scusa Mi pareva di averti visto, tre anni fa a Rose Bowl, quando avete partito del South Carolina Tu, tu hai partito del South Carolina Fu una grande partita per dire, però ti hanno speso l'ultimo tempo, se non sbaglio Sì, mi hanno piegato il genocchio a 90 grani dalla parte sbagliata Per questo che non sei professionista? Due anni di operazioni, ho perso il giro, così mi sono laureato in legge Due anni? Laureato in legge, sei avvocato? Wow Beh, la vita non è finita, fai il South Gli avvocati non fanno South Eh lui sì, dai, basta che parla, sono Allora, al fondo Dai, dai, gioco Dai, come te lo fai, dai, dai